Ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi che ci riporterà in Kenya, la terra dell'Orsonandi, di cui abbiamo parlato già in precedenza. Questa volta però l'aria che ci interessa è la catena dei Monti Aberdeer, che si estende per circa 160 chilometri nella parte centro-occidentale del paese e che nei primi decenni del Novecento sembra essere stata la dimora di un felide misterioso conosciuto dai nativi con il nome di Marozzi. Nel 1935, all'interno del rapporto annuale del servizio di caccia della colonia del protettorato del Kenya, del periodo 1932-1934, a firma dell'ispettore E.T. Ricci, l'autore riportò quanto segue. Il signor Trent di Old Callow mi ha consegnato nel 1933 due pelli di leone, una di un maschio di età avanzata e l'altra di una femmina apparentemente adulta, che non hanno mancato di incuriosirmi. Questi animali erano stati abbattuti presso le aree di bambù dei Monti Aberdeer. Le due pelli presentavano la medesima peculiarità, una pigmentazione scura, specialmente lungo il centro della regione dorsale, e rosette, come quelle dei leopardi e dei cuccioli di leone, che differivano dalla maculatura talvolta ancora visibile sui fianchi e sulle gambe dei leoni anziani. Un altro tratto caratteristico di queste pelli scure era che le gambe sembravano notevolmente corte. Purtroppo non erano stati conservati i crani, né altre parti dello scheletro. Nello stesso anno, dopo aver personalmente esaminato le pelli in questione, il cacciatore professionista Kenneth Gandardauer iniziò ad appassionarsi al caso. Alcuni leoni anomali mantengono la maculatura fino ad età avanzata, ma non in modo comparabile con queste rosette, che sono distribuite non solo sulle gambe e i fianchi, ma anche sul dorso. Organizzò così una veloce spedizione sul campo e il 23 febbraio pubblicò un resoconto per The Field. Nell'articolo era riportato l'avvistamento del capitano Dent, ispettore di caccia di pesca, che disse di aver osservato a 3.600 metri presso la sorgente del fiume Katita, sul monte Kenya, quattro leoni nell'atto di attraversare il sentiero. Gli animali gli erano sembrati più piccoli e più scuri rispetto ai leoni di savana, ma non gli fu possibile avvicinarsi per capire se il loro aspetto insolito fosse dovuto in realtà a una sorta di effetto ottico. L'articolo riscosse comunque un notevole successo tra i lettori e nel numero del 16 marzo della stessa rivista apparve una lettera firmata da A.N. McKenzie Ho passato più di vent'anni in Kenya e ho vissuto per lungo tempo come cacciatore professionista. Ho spesso incontrato leoni e leonesse avendo un manto fortemente maculato. Questi leoni sono più piccoli e più scuri dei leoni delle pianure e sembrano conservare le rosette per un periodo di tempo molto più lungo. McKenzie specificava poi che questi animali venivano sempre avvistati sui monti, a quote dai 2100 ai 2400 metri. Il 6 luglio del 1936 Gander Dower, che aveva continuato a indagare sul campo, scrisse un altro articolo, ormai convinto al 100% della reale esistenza di questi animali come entità zoologica ben definita. Il leone maculato esiste nelle montagne equatoriali, non si tratta di un'anomalia individuale, ma perlomeno di una sottospecie distinta. A parte le numerose storie corroboranti che abbiamo raccorto dallo scorso ottobre, la spedizione ha ottenuto abbastanza risultati di prima mano per giustificare tale conclusione, ma tuttavia troppo pochi per poterla stabilire in maniera scientifica. Impronte di leoni maculati sono state trovate in un'occasione sul monte Kenya e in molte altre zone dei monti Aberdeer. L'altitudine del suo habitat, le prede di cui si nutre e i luoghi prediletti non sono conosciuti. In quattro occasioni è stato anche avvistato da dei ragazzi del luogo, piuttosto affidabili, che l'hanno potuto osservare per un tempo considerevole. Hanno descritto la bestia come avente la taglia di un grosso leopardo, piuttosto tozzo e corto di gambe, pur avendo qualcosa del ghepardo per la maculatura e la semicrimiera. Dissero che si trattava di un leone senza essere un leone, o meglio ancora, c'è il leopardo e il ghepardo e ci sono anche il leone e il marozzi. Pur mantenendo un certo scetticismo in merito, anche Reginald Pocock, sovrintendente dello Zoo di Londra, che già conosciamo dal video sull'Orsonandi, rimase aperto alla possibilità di una ben distinta sottospecie. Esistono, come dato di fatto, alcune prove indipendenti, sconosciute all'epoca a Gandardower, sulla presenza di un piccolo leone in Kenya. Diversi anni fa il signor Roland Ward mi mostrò i crani di un leone e una leonessa adulti ricevuti senza le pelli e senza una precisa località della colonia. Il cranio del leone era più lungo di appena un centimetro del più lungo cranio di leonessa di Laichipia, nella collezione di Washington, e il cranio della leonessa era quasi 2,5 centimetri più corto della più piccola leonessa di Capiti, nella stessa collezione. Questi crani provenivano probabilmente da qualche parte del Kenya. Il luogo poteva essere le foreste di montagna dei monti Aberdeer. Un'altra informazione interessante, che sembra corroborare il fatto che questi felidi siano soliti spostarsi in coppia, risale al 1950 e proviene dal maggiore W. Herr Foran. In due diverse occasioni nel 1906 sparai a un leone e una leonessa presso il versante del monte Kenya. Ognuno di loro era visibilmente non più giovane di 5 anni. Le rosette erano chiaramente visibili sul ventre, fianchi e gambe. Erano entrambi più piccoli della media e il maschio era quasi privo di criniera. Qualunque sia la spiegazione, alla base delle credenze e sull'esistenza del Marozzi da parte dei nativi del Kenya, purtroppo non esistono più informazioni su questo animale dalla fine degli anni 30 del Novecento. Dobbiamo però ricordare che prima del Marozzi l'Europa aveva già avuto a che fare con un leone apparentemente molto simile. Infatti, stando al The Times del 15 aprile 1908, lo showman J.D. Hamlin aveva esibito a Londra un misterioso leone maculato congolese. Un felide molto singolare, grande quasi quanto una leonessa adulta, alla quale somiglia fisicamente, ma irregolarmente maculato. Non c'è traccia di criniera, né la sua coda termina con un ciuffo, come nei leoni. La tonalità di colore generale è bruna, ma con una sfumatura fulva che ricorda quella del manto di un ghepardo piuttosto che di un leopardo, e le zone interne degli arti sono bianco-giallastre con macchie scure. Le macchie sul dorso sono molto diverse per dimensioni e caratteristiche. Sugli arti posteriori sono grandi, verso i quarti anteriori la testa diminuiscono di dimensione, ma aumentano molto di numero e il muso è, per così dire, striato di nero. Oggi l'animale verrà inviato al giardino zoologico, dove il mistero della sua origine e parentela starà studiato scientificamente. Così tre giorni dopo Reginald Pocock inviò una lettera al The Field contenente le sue considerazioni sul bizzarro animale. Fin dai tempi di Linneo, nessun grande rappresentante dei felidi, che si presume sia stato catturato o ucciso in natura, è stato portato in Europa senza che fosse stato immediatamente possibile assegnarlo all'una o all'altra delle seguenti forme. Leone, tigre, giaguaro, leopardo, lince o puma. Di eccezionale interesse è quindi ricordare che la società zoologica è stata informata che il signor Hamlin si è procurato un grande esemplare, eccedente alle dimensioni di un leopardo, che non era stato in grado di identificare con nessuna delle specie sopra menzionate. L'esame dell'animale, attualmente esibito nella gabbia dei leoni del giardino zoologico, giustifica in pieno le perplessità di Hamlin. È per me evidente che due e soltanto due sono le congetture che possono essere fatte su questo animale. O si tratta di un ibrido tra leone e leopardo, o è una nuova specie che si trova in mezzo a queste due. Sono fortemente incline alla prima possibilità. In seguito si scoprì che l'animale in questione era un incrocio tra una femmina ibrida di giaguaro e leopardo con un leone maschio. Gli ibridi femmina tra grandi felidi spesso risultano infatti essere fertili e nel corso degli anni sono stati documentati una moltitudine di incroci tra le specie più disparate, i più famosi dei quali sono sicuramente le ligri, incroci tra leoni maschi e tigri e femmina, che possono raggiungere dimensioni impressionanti. Per quanto riguarda invece il leone maculato del Congo, il suo nome è un improbabile, Lijagulep, che proviene dalle contrazioni di lion per jaguar e leopard. L'ibrido che però ci interessa maggiormente in questa sede è il cosiddetto leopone, in italiano, che si ottiene da un leopardo maschio e una leonessa. Le sue caratteristiche ricordano infatti davvero da vicino quello che ci è dato a sapere sul Marozzi. Inoltre pare che i primi animali di questo tipo siano stati ottenuti nel primo decennio del 1900 presso un zoo indiano e tecnicamente quindi potevano essere stati presenti anche in altre strutture in giro per il mondo. Va comunque ricordato che animali simili sono possibili soltanto con incroci in cattività. Un'ibridazione in natura tra grandi felidi sarebbe infatti davvero altamente improbabile. Le differenze etologiche che intercorrono tra le diverse specie sono infatti troppo incisive e queste ibridazioni sarebbero dovute essere anche state piuttosto frequenti per riuscire a spiegare i diversi avvistamenti e le tradizioni dei nativi. Un'altra ipotesi da non sottovalutare è che in realtà i Marozzi non fossero altro che semplici leoni che avevano mantenuto una forte maculazione sino all'età adulta. Non è una cosa troppo insolita in fase giovanile perché in effetti i cuccioli di leone nascono maculati. Questa interpretazione va quindi presa in considerazione. Sebbene, volendo ritenere valide le diverse testimonianze riportate, anche in questo caso può sembrare strano che tali anomalie fossero comuni sia nei maschi che nelle femmine che furono abbattuti insieme, senza contare poi il loro presunto habitat nelle fitte foreste dei monti a Berder. Un ambiente, a dire il vero, piuttosto insolito per dei leoni. Lasciamo così per ultima la possibilità più affascinante di tutte, di cui si fece promotore Bernard Hovelmans, il papà della criptozoologia. Infatti, a suo modo di vedere, le varie corroboranti descrizioni di felidi di alta montagna dal manto più scuro di quello dei leoni di savana emaculato, potevano indicare l'esistenza di una sottospecie di leone per la quale nel 1955 propose addirittura il nome di Pantera Leo maculatus. L'eventualità di una diversa specie o sottospecie di panterino, ora estinta, abitatrice delle foreste dei monti Kenya, i Renzori e Kilimanjaro, potrebbe a conti fatti non essere poi un'evenienza così impossibile. Infatti, analoghe situazioni con specie simili, imparentate ma ben distinte, esistono anche in Sud America, dove molte specie maculate di diverse dimensioni, dal giaguaro all'oncilla, possiedono una propria nicchia e vivono spesso ad altitudini diversificate. E qui, in conclusione, arriva quello che per me è il punto più irritante di tutta la faccenda. Infatti, per quanto questa possibilità di una nuova specie o sottospecie possa essere remota, oggi verificarla sarebbe davvero molto molto semplice tramite un esame del DNA delle pelli e crani attribuiti al marosi. Ma purtroppo nessun ricercatore sembra ritenere la cosa degna di indagini. Purtroppo altre informazioni non ne ho, se vi interessa saperne di più vi consiglio il libro di Gandhar Daur, pubblicato qualche anno fa dal mio amico Chad Arment, che vi lascio nel link in descrizione. Per oggi è tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti, ricordatevi come sempre di cliccare sull'occhione per iscrivervi al canale e magari anche sulla campanellina per avere le notifiche e noi ci vediamo tra una settimana per il prossimo video. Ciao!